Se vinciamo qui diamo una risposta e una dimensione anche a chi governa il paese, anche a quel centro-sinistra. Cioè diamo una dimensione, come diceva Beppe, che c'è un modo di poter vincere senza invocare i muri, senza invocare le separazioni. Io mi permetto di dire con grande umiltà che se vinciamo qui, secondo me, da qui parte una riscossa anche come partita da Milano per l'Italia. Se devo dirla alla milanese, a me pare che la Borgonzoni non sa neanche da che parte è girata. Forse per questo quando guarda a nord vede al confine il Trentino e quando guarda a sud vede al confine l'Umbria, ma oggettivamente non sa che... Ma lasciamola con le sue sciocche t-shirt a Roma, forse sta bene. Lasciamola con le sue sciocche t-shirt a Roma, ma è vergognoso. È vergognoso pensare che la destra sia rappresentata da una persona che è nota per essere andata alla camera con una maglietta del genere, ma dai! Paldesca! Grazie.